E' polemica aspra a distanza tra Lega e Forza Italia dopo le sconfitte e i balottaggi di Chieti ed Avezzano. Il partito di Salvini per bocca del segretario regionale Luigi Deramo ha messo sul banco degli imputati l'assessore regionale Mauro Febo che aveva alle comunali teatine al primo turno presentato una propria lista con un proprio candidato sindaco. Il diretto interessato spiega però quanto accaduto aggiungendo che nessuno ieri all'Aquila gli ha chiesto di fare un passo indietro. Intanto mi sembra che adesso ci sia un momento di riflessione e credo che sia giusto. Magari a caldo qualcuno si è lanciato in qualche affermazione. Credo che non possa essere accolta da me perché tutti sanno la mia posizione. Dieci mesi fa ho proposto tutto e più di tutto a tutti. La risposta è sempre stata un no e quindi siamo arrivati ad un risultato che purtroppo ci penalizza. A me questo spiace però era una cosa annunciata. Basta leggere con attenzione i numeri e si capisce. Io continuo a dire non confondiamo i due livelli. Si è votato ad un comune che non è la regione e che non è lo Stato dove c'è chiaramente lo scontro ideologico supera anche certe persone. Si è votato a Chieti, abbiamo fatto una lista civica. Grande successo, grande risultato. Peccato che per una manciata di voti non abbiamo completato il percorso. Però credo che ha significato importante. Ha significato che i territori, forse qualcuno li ascolta, i risultati possono essere diversi. Su Chieti e su Avezzano si potevano fare due ragionamenti diversi o comunque ci si poteva metterli insieme e quindi ragionare insieme. Qualcuno ha scelto un'altra strada. Anche legittimamente, però voglio dire oggi il risultato purtroppo è questo. Quindi dobbiamo risederci al tavolo, riesaminare i voti e poi andare avanti. Credo che questo sia il miglior modo per superare questo momento di difficoltà. Qualcuno all'Aquila ieri ha chiesto le sue dimissioni? Nella maniera più assoluta. Ieri abbiamo avuto giunta nella piena cordialità. Abbiamo provato provvedimenti peraltro importanti come esempio quello che riguarda il ponte su Tordino per terminare la pista ciclabile a Giulianova, che è una cosa che ci interessa in maniera particolare. La più lunga pista d'Italia, mi permetto di dire, la più bella pista ciclopendonabile d'Italia che porterà tanta economia per la Regione Abruzzo, ma nessuno mi ha chiesto nulla. Grazie.